Posto di categoria Varano 600 Open Giordano Masini Quindi sarebbe un bel risultato sicuramente per lui perché il podio ce l'ha assicurato Certo è che con un suo ritiro pace salirebbe sul podio Costantino è franco bollato alla moto Non ci va sul podio Guarda qua, guarda qua come è vicino, guarda come si fa vicino l'AS Sulla moto di Nicolo Rosso Mamma quanto sono vicini Questi piloti con Costantino che prova ad affacciarsi all'interno Guarda quanto stanno andando forte questi due Nicolo Rosso Guarda dove è passato Rosso Guarda dove ci ha provato Ma è andato lungo, lungo, lungo di Nicolo Rosso Cosa ha fatto? Tra i due litiganti il terzo gode Costantino si infila in mezzo e adesso alle spalle di Robartolo Ed è secondo Costantino In seconda posizione nel moto estate 600 Alla sua seconda gara della vita Mamma che risultato Ma guarda quanto è uscito forte Nicolo Rosso Che restituisce il favore a Costantino O perlomeno si prova alla prima curva con una staccata fotonica Arrivano lunghi tutti e due E Rosso si porta davanti a Costantino Quindi non soltanto mettersi davanti a lui Ma portare l'errore è la caduta Ultime curve per Costantino Guarda qua che ci prova su Nicolo Rosso Vediamo se ce la fa Prova la staccata a Costantino Arrivano No, 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 no Che peccato No, Costantino no Non puoi cadere a tre curve dalla fine Non ci posso credere Si dispera Chissà cosa starà dicendo in quel casco Non vogliamo saperlo Ma si dispera Veramente Ha fatto una gara pazzesca Costantino La gara della vita Grazie a tutti Grazie a tutti